segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te pur essendo il riferimento per l'intera provincia l'ospedale Iazzolino ha una struttura fatiscente in alcuni punti addirittura chiusa per mancanza di agibilità eppure i soldi ci sarebbero sono oltre 25 milioni di euro oltre 25 milioni che sarebbero pronti per essere utilizzati qui che registrano dei ritardi inspiegabili la grande promessa era quella di costruire un ospedale tutto nuovo la posa della prima pietra c'è stata per ben quattro volte quattro inaugurazioni di cantieri che però di fatto non sono mai partiti perché dicevano che chiudere gli ospedali avremmo recuperato i debiti invece l'altro giorno la corte dei conti ha detto che del 39% ancora si sono indebitate le aspe calabrette allora che cosa c'è sotto?